Gentili telespettatori, buona giornata. Colpo di scena. Shock because, direbbe. Shish, Renzi, no? Qual è il colpo di scena? Il prezzo del gas è sotto i 65 euro. Questo prezzo è inferiore addirittura a prima della crisi internazionale partita il 24 di febbraio dello scorso anno. Eh sì, lunedì 2 gennaio il gas, nel pieno della richiesta, perché il 2 gennaio col freddo che dovrebbe fare, la richiesta del gas sarebbe al massimo, invece fa caldo. Lunedì 2 gennaio il gas aveva raggiunto i minimi dai giorni antecedenti al 24 febbraio 2022, cioè 22 febbraio 2022. Nel finale di mercoledì 4 gennaio i contratti scambiati sulla piattaforma TTF di Amsterdam cedono il 9,83% e il prezzo arriva a 65,2 euro al megawatt ora, dopo aver raggiunto un minimo di 64,22. Livello che non veniva registrato da metà gennaio del 2022 dell'anno scorso, ben prima della crisi internazionale. Quindi in un colpo solo la crisi internazionale non c'entra più una beata niente, ecco, non c'entra proprio nulla. Oggi, con un colpo di spugna, siamo tornati a metà gennaio dell'anno scorso, quindi la crisi internazionale ormai non è più, è ininfluente sul prezzo del gas che è crollato. Ma attenzione, il prezzo del gas che voi trovate nella bolletta è la media dei 30 giorni del mese. Ecco, quindi se qui era 150 e l'ultimo giorno del mese è a 10 euro, si fa la media, 75. Avete capito? Cioè, ma com'è a 10 io pago 75? Sì, perché viene fatta una media degli ultimi 30 giorni, ed è per quello che il prezzo del gas è ancora più alto di quello che dovrebbe essere, perché si fa la media degli ultimi 30 giorni, ma il prezzo è crollato negli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio. I primi di dicembre erano ancora 130 euro, gli ultimi di dicembre erano 80 euro, pertanto si è pagato come 119 invece di 80. Nella prossima bolletta dovrebbe esserci un tracollo. Insomma, si ritorna, non mi ritorno in mente, ma si ritorna ai prezzi pre-crisi internazionale. E cominciamo un po' a respirare, perché realmente lo Stato italiano, poveraccio, non ha i soldi per tagliare le bollette. Quello fatto fino adesso, in maniera eccezionale, è stato dovuto al fatto dell'inflazione. L'inflazione ha fatto entrare più soldi nelle casse dello Stato, quei soldi sono stati usati per tagliare le bollette. Certo è una cosa che non poteva andare avanti, fino a marzo ci sono i soldi, i 21 miliardi valgono gennaio, febbraio, marzo. 6-7 miliardi al mese di taglio delle bollette, ma dal primo di aprile, se i prezzi non scendono, è un guaio abbastanza serio. Pensate che oggi è a 64 euro e era a 83 euro qualche giorno fa. Intanto, con queste cifre è più probabile che l'Italia riuscirà a superare l'inverno senza dover attuare razionamenti o blackout energetici. Il paese ha rinunciato quasi totalmente alle forniture in arrivo dalla Russia. Ormai nel 2021 il gas in arrivo dalla Russia era il 40%. Oggi, con gli stoccaggi pieni, il caldo e gli accordi internazionali fatti da Draghi per prendere gas da altre parti, quel 40% si era ridotto al 15%. Oggi, con gli stoccaggi pieni e il caldo che fa, quel gas in arrivo dalla Russia è quasi, quasi azzerato. Il clima caldo ha fatto risparmiare 5,6 miliardi di metri cubi di gas nell'ultimo trimestre dell'anno. Non solo il caldo, ma anche gli italiani che hanno detto non accendere il riscaldamento, per l'amor di Dio, tienilo spento, perché o mangiamo o ci riscaldiamo. Quindi mettiti tre maglioni, una coperta e il cappello in casa, perché preferisco mangiare la pasta col tonno che stare in maniche corte a 25 gradi e poi non avere niente da mangiare. Questo è il discorso che farei io. Se io non ho soldi e devo decidere come utilizzarli, la priorità è mangiare. La seconda priorità è avere un minimo di riscaldamento in casa. Quindi a questo punto io, se dovessi scegliere, prima mangio e in casa magari mi metto su tre maglioni, due coperte, il cappello e la sciarpa e tiro avanti, questo è quello che farei io, perché se non ci sono i soldi, che devi fare? Devi fare una scelta. Quindi il gas, c'è stata meno richiesta dagli italiani perché hanno detto o mangiamo o paghiamo il gas e spegnete tutte le luci, accendiamo una candela, visto che è Natale, facciamo anche l'atmosfera natalizia, accendi il camino che fa anche luce, ma non azzardarti ad accendere, anzi spegni il contatore, tanto il frigorifero è vuoto. Bene, quindi il perché le bollette sono aumentate del 23% a dicembre, ve l'ho spiegato prima, perché fanno la media degli ultimi 30 giorni, visto che c'era stata un'impennata, hanno fatto la media, c'è stato l'aumento, adesso che è crollato, il prossimo mese il prossimo mese, ci sarà una discesa molto forte del gas, ma gennaio-febbraio si va verso, in modo più o meno, verso la primavera, quindi potrebbe esserci una primavera anticipata, un inverno che non c'è mai stato, c'è andata bene, diciamo per quest'anno, non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, va bene, a parte gli scherzi, a parte il mio teatro che ogni tanto vi faccio, che vi devo dire, incrociamo le dita e speriamo che al nostro povero paese vada meglio e che i sinistri non vadano contro, in questi giorni stanno dicendo no all'estrazione di nuovo gas. Insomma, i politici di sinistra con il loro bel 20.000 euro al mese, possono permettersi anche di pagare il gas di più, però i comuni cittadini, cittadini non credo, che siano d'accordo al no alle trivelle, in modo da avere un po' di gas di produzione nazionale da poter fare la media con quello comprato all'estero e venderlo a un prezzo più basso. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.